Sorto all'inizio dell'anno scolastico 1970-71 nella città di Vibo Valenza, il Conservatorio di Musica Fausto Torre Franca è la massima istituzione scolastica pubblica dell'intera provincia, riconosciuta per la sua qualità e professionalità e che annovera oltre 800 studenti provenienti da tutta la Calabria. Da un po' di tempo si è aperto al territorio offrendo concerti per la stagione teatrale, per le giornate fai di primavera e per numerose altre manifestazioni come la Festa della Repubblica. Adesso è arrivato il momento di prendere il volo e farsi conoscere nel resto dell'Italia. L'anno scorso l'Orchestra dei Fiati fu invitata ai Musei Vaticani, ebbe un notevole successo e abbiamo avuto la possibilità di essere rinvitati. Quest'anno però non è soltanto un solo concerto ma iniziamo una piccola tournée, saremo a Roma il 12 venerdì 12 maggio, il 13 a Novara al Festival Internazionale dei Fiati organizzato dal Conservatorio di Novara nel celebre Auditorio Mucantelli, il 14 nel Teatro San Carlo di Arona. Tre occasioni per i ragazzi che saranno importanti non soltanto sul piano artistico ma anche sul piano più generale e culturale, in quanto a molti di loro saranno offerte opportunità che finora non hanno avuto e che consentono anche di fare conoscere il livello e la qualità delle nostre produzioni al di fuori della regione. Sarebbe però necessario ottenere anche dalle altre istituzioni un aiuto, se non altro logistico, in modo da concentrare in un'unica sede tutta l'attività che voi fate. Sono anni che ribadisco questa necessità, il Conservatorio di Vivo Valencia è l'unica istituzione superiore di studi superiori pubblica di questo territorio, che credo meriti una maggiore attenzione, nel senso che noi avremo bisogno di uno spazio più grande, di un auditorium dedicato, che ci consenta di affrontare le nuove sfide che verranno quando nella riorganizzazione generale delle istituzioni AFAM, cioè le istituzioni dell'alta formazione musicale in Italia, si dovrà decidere se ci sarà una sola sede. Noi ci stiamo attrezzando con la capacità dei nostri docenti, con la volontà dei nostri allievi, con queste produzioni così importanti e con tutta una serie di azioni, dal riconoscimento della biblioteca ad un inizio di attività di ricerca ed editoriale, per poter rispondere ai requisiti di un'istituzione di alta formazione. Ma non basta soltanto il nostro impegno.